Ilari Blasi dopo la separazione da Francesco Totti ha un nuovo amore. Lui è un bell'uomo tedesco. Un imprenditore che vive a Francoforte. Il tenebroso Bastian. Poco tempo fa sono stati paparazzati dal settimanale chi durante un weekend romantico a Zurigo in un esclusivo hotel con centro benessere. Ora invece si trovano a Saint-Moritz con la terzogenita della conduttrice e l'amica Michelle Hunziker. Proprio la moglie di Trussardi sembra aver fatto da Cupido tra i due. Almeno così afferma un'indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport. Una persona vicina alla Blasi ha raccontato al settimanale di più che la showgirl romana sarebbe molto presa da Bastian. Un uomo che la fa stare bene. La fa sorridere e le fa battere il cuore. L'uomo, alquanto muscoloso, sarebbe pure un romanticone e questo suo lato dolce avrebbe conquistato le attenzioni di Ilari. Pare che i due trascorreranno assieme anche il Capodanno. A dispetto del suo aspetto da palestrato mostra di avere un lato tenero. Affettuoso. Dotti che Ilari ha sempre ammesso di apprezzare molto. Stanno già progettando Capodanno in una località esotica. Sempre la stessa fonte ha sostenuto che la decisione della Blasi di uscire allo scoperto con il suo nuovo amore è arrivata dopo aver visto la sovraesposizione mediatica dell'ex marito con la nuova compagna Noemi Bocchi. Dopo le numerose paparazzate e dopo l'intervista non lusinghiera di Totti al Corriere della Sera non. La conduttrice Mediaset sarebbe rimasta molto delusa e avrebbe deciso di reagire. Si aspettava più discrezione. L'atteggiamento l'ha molto colpita al punto da spingerla alla fine a uscire allo scoperto anche lei con Bastian.